ciao oggi un'importantissima lezione di vita uscire per uscire occorre una condizione base essere dentro io mi trovo dentro il mio appartamento e per uscire utilizzerò questa cosa fondamentale la porta a volte può capitare che le porte siano chiuse e bloccate per sbloccarle occorre utilizzare le chiavi ora io uscirò esperimento riuscito attenzione non sempre oltrepassare una porta significa uscire si può uscire da soli si può uscire con un amico con una fidanzata con un cane ma forse la variante più bella è questa uscire di testa per oggi può bastare così ci vediamo con la prossima importantissima lezione schiacciare i tasti ciao ciao